Lui mi ha accompagnato alla macchina e ci siamo fermati ad ascoltare un po' di musica in macchina, cioè su una strada bella, adesso ritorno a Giovanni, bella illuminata dove passavano macchine, quindi non c'è stato, e ci sono stati degli scambi di abbracci, di coccole e quant'altro. Però se io devo dire che ho provato qualcosa, e qui ritorniamo sempre al dunque, no, no, e io sono così, sono a pelle, cioè io te lo devo sentire, sennò è inutile che ci raccontiamo adesso, io quello che voglio dire Maria, scusa. Perché è troppo Gianni, scusa, Biagio si è stato scaricato. Allora, però, no, 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 no. Mi chiama due di picche. Pazienza, nella vita può capitare tutto, no. Ogni tanto dopo tanti giorni hai dati tu, devi ricevere tu. No, io ho constatato, Tina, una cosa, che lui, rispetto a me, è più avanti, cioè lui, sì, proprio... e ho detto quello che prova lui non lo provo io e allora siccome non mi va di fare un altro tentativo un'altra uscita per fare che io me raccolgo subito chiudi subito ovviamente cioè è inutile